Partita da parte tua perfetta, hai blindato la linea difensiva, non avete concesso praticamente nulla, solo un po' di intensità a Livorno con il 4-3-3 nel secondo tempo. Sì, no, ti ringrazio, ma secondo me mi ha fatto tutti una buona partita, soprattutto nel primo tempo. Secondo tempo abbiamo sofferto un pochino, abbiamo lasciato un po' di campo, ma abbiamo tenuto bene il campo, sei riusciti a chiudere senza subire gol. Ci voleva, dopo cinque partite, questa vittoria. Mirko, ogni volta che sei stato chiamato in causa da Zauri hai fatto delle partite ben oltre la sufficienza, ti candidi per questa maglia titolare senza volerla lasciare più? Ma io mi alleno sempre per giocare, sono qui per dare il mio contributo, dopo c'è il mister che fa le sue scelte. Però è un dato oggettivo le partite che stai facendo, tra l'altro hai fatto l'assist contro il Trapani, oggi neanche una sbavatura, anzi si è stato particolarmente positivo. No, no, ma sono abbastanza contento, è chiaro che quando giochi con continuità è anche più facile. Mi vorresti dire di sì, ma non lo voglio dire. Bravo, bravo. Bene, abbiamo capito. Allora ti chiedo un'altra cosa, ti chiedo, Manuel Marras, Pescara lo conosciamo molto bene, rapidissimo, e quest'anno ha trovato anche quattro volte il gol. È stato l'unico che vi ha messo un po' in difficoltà? Ma Manuel lo conosco bene perché ha giocato insieme anche a Trapani con lui, c'ha una gran gamba, c'ha tecnica, lo sapevamo, ha fatto qualcosa in più nel secondo tempo, sapeva più campo, però direi che l'abbiamo ottenuto abbastanza bene. Vittoria meritata questa di oggi, lo diciamo, sì. Sì, direi di sì, assolutamente. Soprattutto nel primo tempo dove avete punito tutte le lacune tattiche del Livorno. Sì, sì, abbiamo fatto un buon primo tempo, due gol di vantaggio, poi nel secondo potevamo fare meglio qualche contropiede per chiuderla definitivamente, però va bene così.